C'era una volta una principessa che faceva sognare il suo popolo. Era la nonna. E questi sono gli articoli su di lei. Questi invece sono gli articoli di mamma. Questo è l'articolo su di me. Per portare oggi una principessa in prima pagina c'è un solo modo. La principessa Letizia deve innamorarsi di un disoccupato povero, ignorante, grezzo e volgare. Dove lo trova un povero? Lo trova, lo trova. Ehi, suo peggiorno, scena! Come vive? A Scroppo. Non la prima! A seconda! Giro verso l'alba! Bene, così! Boh! Sono arrivato, grazie! Ma viste, che è? Sono il ciambellaro di corte e la principessa Letizia vi invita a cena. Ti posso dare un bacio? Principi? Io lo faccio male. No, te lo voglio dire, vi faccio vedere. Proprio i canguri al motore. Quelli là proprio fanno... Oh! 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 Non lo voglio nemmeno per aver fidanzato un filto! Me ne occuperò io e trasformerò la bestia in, diciamo, un principe abusivo. Andò! I miei amici si vedono nella cattiva, ma soprattutto nella buona sorte. Ti voglio presentare mia cugina, Jessica Guagliaruno. Buongiorno. Piacere. No, scusate, l'ultima volta si hanno fottuto braccialette. Beh, è un'ignoranza stellare. Aiutami a farla innamorare. Buona luna. Tu sei un'oscena. E tanzo trattano. Marilla!